Sai cosa mi fa sorridere? E' che questi criticano tutti il Green Pass, criticano il tampone, il vaccino però quando vengono in trasmissione, ci vengono vogliono, in alcune trasmissioni viene chiesto il Green Pass e il tampone, quindi per venire in televisione e farsi vedere, la regola viene... Ha ragione, le frasi di Osho l'ha detto, c'era una foto dei draghi, ma statevene a casa, per protestare contro il Green Pass, noi, noi, per tutelare... Noi, per tutelare gli italiani, vi renderemo la vita difficile, come stiamo facendo, perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso, punto.